Giunta fatta, capo non ha. Si discute moltissimo in questi giorni su quella che sarà la futura giunta comunale di Perugia. Le elezioni ci sono state, la programmazione del sindaco e degli eletti c'è stata, si sa come sarà la composizione del Consiglio, un pochino meno si sa su quello che sarà la nuova giunta. Perché i tasselli da mettere insieme sono tanti e sono diversi, tante sono le anime all'interno di quel Consiglio comunale che devono essere sistemate. C'è posto per gli esterni e si parla ovviamente della Bertinelli e si parla dell'ex Assessore Fioroni anche lui, come esterni perché sono fondamentali per questa giunta. E poi ci sono le quote rosa da sistemare, ma le quote rosa da sistemare devono avere nomi che perlomeno raccontano di qualità per l'assessorato che devono ricoprire. E poi c'è da rispettare quello che è il vecchio manuale Cencelli, se vogliamo essere politicamente corretti. Tanti di questi, tanti di quelli, tanti di quelli. Tanti alla Lega, tanti a Fratelli d'Italia, tanto alla lista che ha sostenuto il sindaco Romizzi. Pochi quelli di Forza Italia, anzi nessuno di quelli di Forza Italia, così come era accaduto nella precedente giunta di Romizzi. La precedente giunta di Romizzi era nata all'insegna di quello che era esternalizzare gli assessori. a parte quelli che erano stati eletti per l'apparentamento del ballottaggio, Vachè e Barelli. Poi il resto si era scelto Presco, ecco dimenticavo Presco, all'interno di Fratelli d'Italia. Per il resto si era scelto di andare all'esterno perché, diceva il sindaco Romizzi, io devo prima di tutto ringraziare non i consiglieri comunali, ma coloro che mi hanno dato una mano a vincere questa battaglia. Poi su chi gli abbia dato veramente una mano a vincere la battaglia, visti i nomi che erano stati fatti a quel tempo, un giorno il sindaco ce lo spiegherà, chi siano state queste forze che rappresentate dai vecchi assessori avevano dato una mano a vincere le elezioni. Adesso non si tratta più di dare una mano a chi mi ha aiutato a far vincere le elezioni. Le elezioni sono state stravinte, una sorta di cappotto, una cifra che ricorda le cifre bulgare alle quali aveva abituato il vecchio PC, il vecchio PDS e il vecchio PD quando una volta vinceva Perugia. Adesso non si tratta di sistemare chi mi ha aiutato a vincere, ma si tratta di sistemare le diverse forze politiche sono all'interno della città. Il capo c'è, la giunta dice anche, si aspetta solamente di sistemare quei tasselli. Pensieri che vanno, pensieri che vengono, probabili candidati assessori che nicchiano qualcuno che dice no, non va bene, forse c'è il nome nuovo che esce all'ultimo istante, all'ultimo secondo, forse ci si ripensa, forse se spostiamo qui e mettiamo là. Il problema non è solamente fare gli assessori, poi il problema sarà dare le deleghe. C'è tanto da fare a Perugia. Il programma della prima candidatura praticamente non è stato rispettato. Non è stato rispettato quello che doveva essere fatto a Fontivegge, perché non possiamo pensare che Fontivegge e tutto il progetto che era nato per Fontivegge possa essere aver chiuso il passaggio della stazione dei Pullman e farne il luogo di intelligenza della Perugia moderna. No, non era questo il programma, non era questo quello che c'era stato promesso e proposto e non è sicuramente quello che doveva essere realizzato. Ma adesso ci sono cinque anni di tempo per fare tutto ciò che non era stato fatto prima, farlo adesso e farlo in maniera corretta. Ci sarà tempo e vedremo come finirà. Nonostante tutto, la mia più cordiale e buona serata.